Ci sono orizzonti sicuri e cascati di purezza. Ci sono luoghi di storia, di bellezza e dell'anima, e ci accompagna l'allegro ritmo dell'accoglienza. Abbiamo avventure da condividere, storie da raccontare, sorrisi da offrire, perché, in fondo, ci siamo lasciati così. E allora ricominciamo, da queste terre uniche da camminare, da esplorare, da un nostro abbraccio, dai colori e dagli odori, dai sapori unici e da borghi incantevoli. Il cuore della Basilicata ti aspetta.